gavettino riprodotto in alluminio e verniciato nero opaco Germania Wehrmacht riproduzione di quelli tedeschi seconda guerra mondiale questo gavettino ha sul retro due manigliette metalliche che vengono reclinate e utilizzate come maniglie all'interno è alluminio ovviamente esterno verniciato interno no alluminio punzonato con passante punzonato per far passare la cinghietta l'apposita cinghietta in cuoio che non è inclusa veniva posto al di sopra della borraccia tedesca seconda guerra mondiale questa è una fedele riproduzione ottimamente ben rifinita anche il bordino superiore replicato perfettamente uguale identico un po' di sopra 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 di sopra